Ciao a tutti da Chris Attigenza, lottore del blog, eccomi qui con il grandissimo Vincenzo D'Amico, giocatore bandiera della Lazio, che è una sorpresa per molti di voi. Ciao, ciao a tutti, vi mando un saluto e una persona forte. Facciamo un po' di fair play, io dico forza Roma, e lui forza Lazio. Diciamo qualcosa di buono per il calcio, il tifo soprattutto. Il tifo, non mangiare biscotti quelli variati, che fanno il tifo. Fanno molto tifo, bravissimo, perciò consiglio a tutti, ciao. Ciao, ciao.